Musica Professore Bacchiano, buonasera, siamo qua ad Ampezzo a conclusione della conferenza che è stata indetta dalla filiera Friullane FWG che Friullane sta per Abete Bianco. Io credo che questo sia davvero il futuro del settore dell'edilizia. Il legno è un materiale eccezionale, prima di tutto perché è rinnovabile, secondo perché può immagazzinare carbonio a lungo termine, ma anche le sue proprietà tecnologiche, come in parte abbiamo ascoltato oggi, sono resistenti sia al fuoco, lo rendono un materiale con cui si possono fare oggi qualsiasi genere di strutture e lo rendono anche un materiale a cui siamo affezionati. Abbiamo anche un legame emotivo con il legno che non abbiamo con altri materiali e oggi in architettura indirizia questa cosa è molto importante. Quindi credo che il settore abbia davanti uno sviluppo enorme da questo punto di vista. In altre parti del mondo si stanno già cercando di spingere parecchio gli edifici in legno, c'è una gara tra paesi a chi costruisce il grattacielo più alto interamente in legno e secondo me abbiamo grandi possibilità davanti a noi. Ecco l'ultima domanda, giusto poi per complimentarmi e salutarlo, facciamo proprio questo davanti a questo simbolo che è il simbolo del PFC e che è quello che garantisce che il materiale che noi usiamo nelle nostre costruzioni, nelle nostre aredi, arriva da un bosco che è controllato ed è un bosco che fa parte della catena di custodia per cui garantisce la sua sostenibilità. Se vogliamo che le foreste continuino ad essere per noi ambienti funzionanti ma continuino anche ad essere ecosistemi sani, di fronte al cambiamento climatico dobbiamo gestirle. La velocità dei cambiamenti del clima è spesso superiore alla capacità delle foreste di adattarsi nonostante alcune specie, come proprio il nostro arbete bianco, abbiano una plasticità maggiore. Da qui la necessità di gestire e di accompagnare gli ecosistemi per renderli sempre più adattabili e sempre in grado di fornirci tutti i servizi di cui abbiamo bisogno. Quindi la certificazione si impone come strumento principale per garantire che quello che facciamo nelle foreste non solo rispetti l'ecosistema di per sé ma anche ci garantisca che quelle foreste assieme a noi abbiano un futuro quindi continuino a garantire protezione idrogeologica, stock di carbonio e fornitura di materiali arrendati. Grazie professor Nocchiano per cui un grande futuro per l'abete bianco certificato. Senza attenzione. Grazie. Grazie ragazzi.